Buongiorno amici di Ante, buongiorno a tre chiarissimi amici per questa puntata delle pillole di mercoledì 5 dicembre, 20 giorni al Natale. In primis il collega Luca Bassotti, buongiorno Luca, e poi abbiamo un po' la massima rappresentanza del Grotta Mare, il direttore generale a Ceo Galea, buongiorno a Ceo, e il mister Manolo Manoni, buongiorno Manolo. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Il perché? Perché giustamente con Luca, con i colleghi cerchiamo sempre di fare il punto settimanale, però era giusto anche invitare gli amici che hanno ottenuto una grande vittoria a Porto Reganati contro una diretta concorrente per la salvezza, anche perché nell'ultima interna c'era stato anche quel pizzico di sfortuna, un po' dopo ce lo direte. Luca, allora è arrivata questa sospirata vittoria contro una diretta concorrente, doppietta di rapisarda, io poi non stavo a casa, stendavo a crederci, però vabbè, una serie di circostanze. Stendavo a crederci perché no, per la vittoria o per i golli di rapisarda. No, per i golli di rapisarda no, perché è un ragazzo che si sa iniziare bene e è cresciuto tantissimo, sta prendendo più consapevolezza dei propri mezzi. Era per la vittoria proprio arrivata al novantesimo, perché per dare una a zero, una a uno, beh, già l'uno non va bene. Allora, raccontaci tu. Beh, sarebbe stato onestamente un peccato non vincere la gara, ma soprattutto perché nella ripresa si erano create le condizioni per poter ottenere proprio il risultato pieno. Certo che nel primo tempo, anche dovuto al fatto di alcune assenze di rilievo, si era presentata un po' la solita Samb versione trasferta, cioè una squadra rinunciataria che cercava solamente di bloccare le fonti di gioco della Virtus Verona e limitare i danni in difesa. E infatti poi è arrivato il gol nel finale di primo tempo e si è rischiato di prenderne anche un secondo dopo un minuto. Poi nella ripresa, superiorità numerica con l'espulsione di Gerbach, che era un trequartista tra i più brillanti della squadra veronese, la partita si è presentata meglio. Ha tentato il tutto per tutto per cercare di almeno di agguantare il pari, ma per come si erano messe le condizioni, parate del portiere, un palo colpito da Di Massio su punizione sarebbe stato un peccato non vincere la gara. Infatti al novantesimo è arrivato il gol di Rapisarda. Ottima di esamina. Direttore, allora questa vittoria non perché era nell'aria, però l'aspettavate perché siete scesi molto di classifica, tra infortuni e vari problemi, però la vittoria è quella che ridà morale, la fiducia e dà anche degli obiettivi per quello che è il proseguito del campionato. Certamente sì. La vittoria di domenica fa bene ai ragazzi, fa bene al mister Manoni, fa bene alla società. E comunque dobbiamo sempre guardare la classifica e siamo ancora lì, siamo zona play out, quindi dobbiamo mantenere la massima concentrazione, ovviamente. E cercare di dare seguito ai risultati. E certo, dare continuità. Detto questo, Carlo, lasciami però anche dire che anche nelle precedenti cinque partite dove i risultati ci sono stati assolutamente negativi, io sono rimasto sufficientemente tranquillo e sereno, il mister lo può testimoniare, perché il nostro gruppo, così com'è, non è da primo, secondo, terzo posto, ma non è neanche da terzo, ultimo posto come in effetti eravamo fino a domenica. Quindi, continuo, ho continuato ad essere fiducioso nei confronti dei nostri ragazzi, anche, come ripeto, in quelle cinque domeniche, con risultati avversi. Perché? Perché le prestazioni di quelle cinque domeniche ci sono state. A sprazzi, attenzione, a sprazzi, dobbiamo migliorare. Però, siccome siamo consapevoli che fin dall'inizio abbiamo impostato il nostro lavoro, per quanto riguarda la prima squadra, su un gruppo di, sì, un mix di giovani e meno giovani, ma soprattutto giovani, per cui ci vuole la necessaria pazienza per aspettarli. Ma ribadisco, adesso, in questo momento, è importante che tutto il gruppo non cali di concentrazione, come pensi, continui a pensare che c'è ancora da fare per stare laddove loro meritano di stare. Manolo, giustamente, dicevi che non è stato fatto niente, però penso che tu ci devi tantissimo a questa vittoria, cercare di dare un po' un cambio a quello che il vostro programma, diciamo un po' così, anche con un pizzico di sfortuna, qualche partita buttata un po' al vento. Sì, diciamo che era un periodo un po' negativo, ma io non parlo di sfortuna, dove magari i piccoli episodi un pochino ci condannavano. Come diceva il direttore, le prestazioni sono sempre state, sia in casa Fossombrone, sia a Pergola, sia col Porto Santerpidio. Quindi, sotto quel punto di vista, ero abbastanza tranquillo, perché è un conto vedere la propria squadra che magari non faccia prestazione, è un conto comunque che c'è una prestazione. Hai un punto da dove partire. Però, come diceva anche il direttore, la squadra è molto giovane e quelli meno giovani sono altrettanto giovani, perché 96, 97, 98 sono comunque sia giovani, a parte due o tre elementi che abbiamo, che ormai è la vecchia guardia, gli altri, ecco, questo è l'età. In queste situazioni non è semplice, non è semplice perché la testa fa la differenza, tante volte la testa ti fa venire paure che magari non esistono. Quindi era fondamentale, era fondamentale cercare di fare un ottimo risultato a Porto Recanati. Ci si è messa ancora, ci si è complicata ancora perché dopo un quarto d'ora eravamo sotto, quindi era doppiamente difficile, ma i ragazzi hanno fatto bene, hanno fatto bene, ma come hanno fatto nelle ultime partite, ma soprattutto hanno dimostrato di avere dei valori caratteriali e umani importanti. Domenica avete il Sassoferrato, una squadra che era partita un po' alla grande e poi mano a mano si è così, messa in una posizione di classifica abbastanza tranquilla, non so se rientrerà nel giro play-off, perché penso che a questo punto la lotta al vertice di Fabriano e Tolentino e Porto Sant'Elpidio, ma penso che sia da Fabriano e Tolentino. Quindi che, innanzitutto ti chiedo se hai delle defezioni oppure se puoi confermare l'organico di domenica. Ma per domenica dovremmo avere tutti gli effettivi, quindi rientra anche lo scolificato Ciappuschi, quindi per quanto riguarda la rosa è al completo, questo sono contento perché comunque lavorare con tutti è importante, il gruppo ha bisogno di lavorare in pieno organico perché è importante. Per quanto riguarda la squadra che affronteremo domenica è una squadra ostica, sicuramente non fa un gran calcio, ma fa un calcio pratico, determinato, aggressivo. ha dimostrato, è un conto magari, sì, ha iniziato, è partita forte, però tutto sommato adesso si sta mantenendo, poi ha qualche risultato magari altalenante, però è una squadra solida, è una brutta carta da pelare, quindi dovremmo stare molto molto attenti e molto concentrati. Quindi è un banco anche di prova per vedere se la vittoria di domenica scorsa è stata casuale. Sì, per me è una partita che capita a pennello per capire se questa cura è iniziata o è stata così sporadica, quindi è importante, ma sono convinto che i ragazzi anche domenica faranno una grossa partita. Sicuramente. Alceo, la domanda che faccio a te è semplice, anche perché da quando seguo Grotta a Mare tantissimi anni c'è sempre questa carenza di pubblico, spesso c'è più quello avverso che no quello di casa, cioè vabbè però ormai è un classico, spesso quando si combina che c'è la Samb, però ecco non c'è quella presenza che forse penso Grotta a Mare meriterebbe. Che meraviglio Carlo che tu mi faccia questa domanda, tu che sei il veterano di queste categorie, come si fa a un bacino di utenza che ha, calcisticamente parlando, la sfortuna di nascere attaccato a San Benaretto del Trento? Quindi questa è la risposta. Se vuoi ti posso raccontare questo aneddoto che ho vissuto personalmente. Alla fine della mia carriera di calciatore già lavoravo, quindi figurati, per passione e per riconoscenza verso chi mi aveva chiamato a Grotta a Mare ho accettato di fare un paio di campionati, allora l'eccellenza non esisteva, c'era la promozione, l'equivalente dell'eccellenza di adesso. Bene, due campionati ho fatto, la capitano lì a Grotta a Mare. Uno l'abbiamo vinto, l'altro abbiamo rischiato di vincerlo, di vincerlo, siamo arrivati secondi a un punto dal Tolentino, due anni. Bene, spettatori, primo anno 32, secondo anno perché eravamo arrivati a 47. Quindi da giocarseli all'otto, grazie al Cero. Luca, allora, domina, anche perché c'è la partita di Coppa Italia tra Torino e Sud Tirol, per cui la Samba giocherà domenica con Sud Tirol. Quanto può valere questa vittoria? Che tu, giustamente, la segui sia in casa che fuori, anche perché domenica potrebbe rientrare stanco. Calderini c'è il turno di squalifica, però penso che lo stesso Rosselli, dando una certa fiducia e consapevolezza a questi 12-13 elementi, la squadra stia crescendo di domenica in domenica. Questo è evidente, nelle ultime tre partite, sette punti, credo che, faticosamente, Rosselli sia riuscito, quantomeno, a trovare una decente quadra e da lì, anche, diciamo, con il buon apporto da parte del direttore sportivo Fusco, hanno raddrizzato un po' la barca e quindi la Samba, negli ultimi tempi, sta facendo risultati. Sette punti, nelle ultime tre, dimostrano, appunto, questa crescita, però poi non riesci a gustartela fino in fondo, perché poi le assenze saranno diverse. Quelle di domenica ci sarà anche quella di stanco, perché stanco ha una lesione al bicipite femorale ed è un malanno che purtroppo ti porta a star fuori tra i 15 e i 20 giorni, se ti va bene. È lo stesso infortunio che è capitato a Biondi la scorsa settimana. Per Di Pasquale si parla ormai di stagione finita, perché comunque venerdì avrà una visita a Roma da Raulzini e per il ginocchio c'è il probabile interessamento dei legamenti crociati. Davvero sfortunato, perché Di Pasquale si stava ritagliando uno spazio importante e stava diventando come un tassello fondamentale, soprattutto nella retroguardia rosso-blu, ma anche Rabove, Russotto ha ripreso ad allenarsi ieri, ma di fatto se tutto va bene andrà in panchina. C'è una situazione di emergenza pura, sia in difesa che in attacco, quindi Rosselli si dovrà comunque inventare qualcosa. Però al di là di questo potremmo anche trovare magari un Suttirolle che ha raspeso qualche energia fisica e mentale in Coppa Italia con il Torino. Vedremo. L'importante è comunque dare continuità ai risultati e anche un pari in condizioni di emergenza non sarebbe da disprezzare. In attesa di recuperare tutto. Concedemi una cosa, voglio sottolineare che il Grotta Mare è in buonissime mani, perché con una guida esperta, capace, lungimirante come quella di Alceo Gaglia, io credo che il Grotta Mare sta a posto per diversi anni. Dorme con i guanciali a tre piani. Ti faccio una domanda, ma non perché voglio alimentare polemiche o riaccendere polemiche. Se la cessione di Minnozzi sia stata un po' troppo anticipata, perché c'è un contratto biennale e secondo me c'era da dargli un po' di fiducia a quella che fece Rosselli e Fusco non gli ha dato. Perché non è casuale che vai a Tolentino e fai subito doppietta. Sì, però voglio dire che dipende da quale angolatura tu questo problema lo vuoi porre, perché se lo prendi dall'angolatura del ragazzo io credo che abbia fatto bene ad andare via da San Benedetto. Ma non perché non avesse le qualità per poter star qui, ma perché purtroppo non aveva le possibilità per potersi mettere in mostra e giocare con più frequenza. Perché purtroppo questa è stata la questione. D'altronde era stata già anticipata da Rosselli quando era arrivato, che ha praticamente fatto un fascio globale di tutti i giovani che sono nell'organico della Samb dicendo che molti di questi avevano bisogno di due o tre mesi per poter essere competitivi in Serie C. e probabilmente tra questi c'era anche Minnozzi perché, lo abbiamo visto, non è stato quasi mai impiegato se non in qualche spezzone di gara. L'unico che forse è emerso è Rocchi. Però io capisco appunto, quindi diciamo da una parte la San Benedettese ha preso al volo magari l'esigenza del ragazzo che voleva andare a giocare all'altra parte, aveva spazio, poi probabilmente è stato bravo Mosconi a dargli il giusto input e a convincerlo di venire a Tolentino e si sta ritagliando uno spazio importante perché comunque il ragazzo per le qualità che ha è giusto che le abbia. Io forse mi sarei aspettato magari un anno in Serie D più che in eccellenza, però un'eccellenza a vincere va comunque bene. Anche perché a Tolentino gli mancava proprio questa... Però io credo che la San Benedettese non manchi perché io credo che la San Benedettese poi a gennaio avrà altre idee. Tra l'altro dare grosse responsabilità a un giovane come Minnozzi che aveva la possibilità solamente di entrare per fare il vice stanco mi sembra un pochino troppo. Quindi probabilmente la San Benedettese durante il mercato di gennaio andrà alla ricerca di un giocatore diverso dalle caratteristiche di Minnozzi e simili magari a quelli di Stalco. Per cui benvenga per Minnozzi che sia andato a Tolentino. Perfetto, allora ringrazio gli ospiti. In primis, con il collega Bassotti, il direttore che è stato tra l'altro puntualizzato dal collega Bassotti. Infatti grazie Carlo e grazie Luca che è stato troppo buono con me. Grazie comunque a tutti. In bocca al lupo e in partito a Manolo Manoni sperando che questa vittoria domenica abbia un seguito almeno per arrivare a Natale che fate un Natale tranquillo e si brinda per iniziare l'anno nuovo in maniera diversa. Sì, speriamo che sia così ma sono convinto che la squadra farà del tutto per far sì che sia così. Quindi ringrazio per l'invito e anticipo gli auguri di Natale e di buon anno se non ci vediamo. Ok, grazie, grazie ragazzi, grazie a voi per l'ascolto. Grazie a tutti.